Ciao a tutti, sono Jory Rouge e queste sono le novità degli snapshot 13v39A e B di Minecraft Poche novità in questo snapshot pubblicato il 26 settembre, la versione B è uscita il 27 settembre che è anche la data in cui sto registrando questo video Prima di iniziare vorrei farvi vedere un paio di cose di cui non ho parlato negli scorsi snapshot Per cominciare, come vedete, siamo qui nel biome Redwood Forest, chiamato Mega Taiga in codice, se non sbaglio Per la precisione se siamo in river, comunque si, si chiama Mega Taiga Vediamo che sono presenti gli alberi tipici della taiga, un po' più grossi, arrivano a 2x2 di spessore Abbiamo dei blocchi di mossi stone sparsi qua e là, troviamo il pozzol e la terra senza l'erba sulla superficie In particolare possiamo dire che il pozzol permette anche la presenza di funghi quindi questo biome è un biome dove è possibile trovare moltissimi funghi perché ovviamente nascono anche a cielo aperto, non c'è bisogno che siano coperti Nient'altro da dire, è un biome abbastanza standard, meno suggestivo di come veniva presentato dalla foto su Twitter Altra novità, introdotta però nel 13V38A, quindi addirittura nella prima versione degli snapshot scorsi è l'oscuramento del cielo quando il giocatore si posiziona al di sotto di una zona coperta Come vediamo in questo caso abbiamo una sorta di sporgenza non possibile nella realtà perché ovviamente un pezzo di terra con uno spessore così piccolo crollerebbe Al di là di quello, se ci mettiamo al di sotto, quindi si copre la distanza tra noi e il sole possiamo vedere un oscuramento tipico di quando c'è il temporale Succede anche al di sotto degli alberi, per esempio ovviamente in modo minore Essendo l'albero più piccolo, comunque possiamo vedere che un po' si oscura il cielo Ok, vediamo adesso un altro paio di cose Prima di iniziare a vedere le novità dello snapshot C'è un piccolo particolare di cui non ho parlato Nel 3CV38A o nel 38B o C è stato introdotto un altro shader Che si chiama Bumpy Il problema è che provando questo snapshot, il 3CV39A Andando avanti negli shader trovo alcuni shader che mi oscurano totalmente il gioco Adesso vediamo se funziona Intanto vediamo che in video settings è stato tolto il tasto per disattivare gli shader Il che non è una cosa proprio bellissima Vediamo cosa succede se clicchiamo su Super Secret Settings Ok, è stato risolto il problema degli shader Vi posso assicurare che prima ce n'erano un paio che facevano diventare il gioco completamente nero La fregatura è che succedeva soltanto con grafica fancy Perché con grafica fast anziché diventare nero E diciamo ci impediva di vedere qualsiasi cosa Diventava viola trasparente Quindi era possibile comunque disattivare Apriamo due secondi F3 per vedere Come vediamo adesso Arrivati all'ultimo shader Con un ulteriore click La scritta sparirà Quindi gli shader verranno disattivati automaticamente Mentre prima ripeteva di nuovo l'ultimo shader Però effettivamente li disattivava Vorrei cercare di trovare lo shader aggiunto Come ho detto si chiama Bumpy Eccolo qua Ed è... Diciamo... Hai contorni più marcati E un filtro passalto aggiunto Niente di che E diciamo è a metà Tra gli shader che impediscono di giocare E gli altri Perché comunque diciamo Possiamo comprendere dove siamo Possiamo interagire con i blocchi Però non è particolarmente utile Disattiviamolo ovviamente E vediamo quali sono le novità Di questo snapshot Il CV39A E la successiva modifica B Che però Apporta soltanto bug fix Per vedere la prima novità Dobbiamo teletrasportarci Nel biome Mesa Che ho trovato dopo diverse ore di ricerca A queste coordinate Come vedete La Z è Meno 127.591 Questo vi fa capire Quanto mi sono dovuto spostare Questo è un tipico Biome Mesa Dove troviamo L'argilla indurita Ma vicino all'acqua Anziché trovare la classica sabbia Dopo un po' Troviamo questa sabbia rossa La sabbia rossa È un nuovo blocco Introdotto in questa versione Lo snapshot Si comporta esattamente Come la sabbia normale Quindi è affetta da gravità Così come anche la ghiaia E una volta cotta Nella fornace Ci darà il vetro Ovviamente il vetro è normale Non sarà vetro rosso E niente di che Diciamo Praticamente identica Alla sabbia normale Tranne per la texture Quindi possiamo dire Che comunque questo Biome Ha cambiato Il proprio metodo Di generazione Per includere Questo nuovo blocco Aggiungo che Nell'immagine Di presentazione Di questo snapshot Nel post della Mojang Su Mojang.com Dinnerbone Ha fatto Una foto Un'istantanea Snapshot appunto In inglese Di un pezzo Di questo Biome Con una specie di caverna In una montagna E questa caverna Rappresenta Un uovo di drago Non si sa perché Però Non si pensa Sia stato introdotto Niente Riguardante Questo oggetto Torniamo Alla base Alle coordinate Vediamo se le trovo Meno 21 78 184 Eccoci qua di nuovo Per vedere La seconda Introduzione Di questo snapshot Che è il Minecart con Command Block Per seguire La tradizione Del Command Block Questo blocco Non può essere Craftato Ne è trovato Nell'inventario Per ottenerlo Dobbiamo usare Il comando Give Nome utente Con L'id numerico Che è 422 Se vi ricordate Dallo snapshot Corso O da due snapshot Fa È possibile Ottenere I I blocchi Anche attraverso I d testuali L'id testuale Di questo blocco Nella versione Mentre cv39a Era Hopper Underscore Command Underscore Block Come vedete Come ci suggerisce Anche il messaggio Apparso in chat Usare Il id Non sarà più supportato In futuro E con id Intende ovviamente Gli id numerici Ci suggerisce Di utilizzare i nomi Come per esempio Command Block Minecart Adesso Mi viene da pensare Che bisogna scrivere Anche questo Minecraft Però Vediamo Perché in teoria Dovrebbe funzionare Semplicemente così Vediamo un po' Minecart Ok È possibile anche Scriverlo senza Scrivere Minecraft All'inizio Non so perché Ci suggerisca Così vediamo un po' Due punti Command Block Minecraft No infatti Ah forse ho fatto Punto e virgola Non due punti Ok Quindi Possiamo farlo Sia mettendo I due punti Sia il punto e virgola Questa è un'altra novità Di questo snapshot Proprio del 3CV39B Che è quello Che stiamo giocando In questo momento Ogni qualvolta Utilizzeremo Un id numerico Probabilmente Ci uscirà Questo messaggio Vorrei verificarlo Però Adesso Quindi Give Per esempio 137 Che è l'id Del Command Block E ci appare Appunto L'id Testuale Quindi Il nome Del blocco Ok Comunque Al di là di questa digressione Vediamo come funziona Il minecart Con Command Block Come oggetto Non può essere Trovato in un inventario Non può essere Craftato con un Command Block Che con un minecart Se lo posizioniamo Sulla rotaia Premendo col tasto destro Entriamo Nella classica console In cui possiamo mettere Qualsiasi comando Mettiamo il comando Ciao Per esempio Sei ciao Per attivare Cioè per eseguire Il comando Il minecart Dovrà passare Su un activator rail Ovviamente Un activator rail Attivata da corrente Per cui Facciamogli fare un giro a vuoto Come vedete Non succede assolutamente niente Attiviamo Questa activator rail E vediamo cosa succede Quando il minecart Ci passerà su E ovviamente In chat Appare il messaggio Ciao Possiamo vedere Che è un po' Buggato Il passaggio Del minecart Non capisco Se è un problema Del minecart Con il Command Block O se lo fa Qualsiasi minecart Quindi dopo Osserviamo meglio Quando mettiamo Più activator rail Insieme Il messaggio Che I messaggi che apparirà Saranno tanti Quanti gli activator rail Come vedete Appaiono tre Uno dopo l'altro E questo è quanto Per quanto riguarda I minecart Con Command Block Niente altro da dire Vorrei fare l'esperimento Con il minecart normale Per vedere cosa succede Quando passa sul Sul blocco Ok Un problema di tutti I minecart Perfetto Queste sono le cose Che ci fanno apprezzare Questo gioco Un'altra cosa Mi penso di aver visto Colpendo col Tasto sinistro Ecco Senza distruggere i blocchi Perché Era apparso Un Eh infatti Questi minecart Me li Me li nomina Con una chiocciola E non capisco Perché Adesso vediamo Meglio Quindi Dammi il Command Block Apposiziono il Command Block Il minecart con Command Block Sulle rotaie Col tasto sinistro Lo ricevo indietro E non succede niente No Non so perché Apparisse la chiocciola Comunque Le novità Praticamente Sono finite Se non sbaglio Si L'unica cosa Da dire E che Una cosa che Influenza ben poco Il gameplay E a molti potrebbe Non interessare Il I file di log Adesso Da minecraft Verranno creati Con un nuovo Con una nuova libreria In java Che si chiama Log4j2 Scritto Log4j2 Probabilmente Di questo non mi sono mai interessato Prima venivano fatti Con la libreria Log4j Senza il 2 Ma non ne sono sicuro Perché appunto Era una cosa Di cui non Non ho mai approfondito Bene il discorso Vi riporto esattamente Quello che c'è scritto Sul changelog Ovvero Che la Cartella di default Dei file di log Adesso è presente Nella cartella logs Nel file latest logs Mentre i vecchi Verranno archiviati Sempre nella cartella logs Ma in Un file Nominato Con la data Del log E in un archivio Con estensione Lg.gz A fianco alla data È presente un numero Progressivo Che aumenterà Ogni volta che Avvierete minecraft Grazie a questa nuova libreria Adesso i log Possono essere salvati In vari modi Per esempio Possono essere Una pagina html Un database Soltanto errori Oppure Possiamo anche scegliere Di non salvare Assolutamente Alcun log Le novità Per oggi Sono finite Questo è uno snapshot Abbastanza spoglio Pian piano Vediamo qualche aggiunta Come appunto Il minecraft Con il command block O la sabbia Che ritengo Totalmente inutile Ah una cosa Che avevano detto Che può essere usata Anche per fare la tnt E anzi Una cosa Che sto leggendo Proprio in questo momento A quanto pare È possibile craftarla Soltanto Con la sabbia rossa La tnt Mi pare un po' strano Però Meglio Verificare Prima di lasciarci Serve anche La polvere da sparo Eccola qua Vediamo un po' Allora 5 E la sabbia normale No Ok Ovviamente Può essere Craftata anche Con la sabbia normale Per ora Però Anche con la sabbia rossa E quindi Ciò rende I due tipi di sabbia Equivalenti In tutto e per tutto Quindi Adesso Veramente Dovremmo aver finito Non mi dovrei essere Dimenticato niente Eventualmente Nel caso uscisse Una nuova versione Nello snapchat O se mi ricordassi Qualcosa di cui Non ho parlato Aggiungerò Qualche nota Al video Oppure Lo scriverò Da qualche parte Nel blog O in descrizione Per ora Ci salutiamo qui Il video quindi Finisce Io sono Jolly Rouge Queste erano Le novità Gli snapchat 13v39a e b di minecraft Ciao a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti.